Una vicenda divisa in tanti filoni, quella del crack Etruria, che almeno dal punto di vista delle truffe si è chiusa ieri con due assoluzioni. I due imputati dipendenti dell'Istituto Aretino erano accusati di truffa in seguito alla vendita di obbligazioni subordinate di Banca Etruria, titoli per circa 20.000 euro acquistati da un medico laziale. Secondo la procura Banca Etruria era in estrema difficoltà ed aveva emesso in due occasioni delle obbligazioni subordinate e conseguentemente aveva invitato le filiali e i loro dipendenti a vendere il maggior numero di obbligazioni. Il giudice ha accolto invece la tesi della difesa secondo la quale l'acquisto delle obbligazioni da parte del medico non sarebbe avvenuto in sede di emissione del prodotto ma alcuni mesi dopo nell'ambito di un normale scambio sul mercato finanziario secondario. Insomma anche in questo caso si chiude con una soluzione, un capitolo sicuramente dolente destinato a rimanere tra le notizie più nere della storia retina almeno di quella economica.